Eccomi a Capistella, il Monumento degli Alpini, bellissimo. Vediamo un po' la parte retro, sto in capolavoro. In ogni pace di solito trovo sempre il Monumento degli Alpini. Ho un'ora in merito degli Alpini di tutta l'Italia. Ho anche i caduti di tutta la guerra. La davanti è bella Capistella. Facciamoci un po' la passeggia da qui. Vediamo cosa c'è. Ah, qui ci sono tutte casette sismiche. La Capistella è stessa, è grande Capistella. Guardiamo il panorama di Capistella. Allora, qui c'è una rotonda. Lo combina attorno a Luca da Marcia.